buonasera e bentornati a talk sicilia programma di intrattenimento che potete seguire su blog sicilia su punto it sulle nostre pagine social e su video regione al canale 14 digital terrestre oggi do il benvenuto a un collega o scrittore a giovanni di marco benvenuto giovanni grazie vero grazie per avermi invitato e buona buona serata a tutti giovanni è un giornalista molto esperto nel campo sportivo insomma il suo volto è conosciuto un sacco di dirette su sky poi scrive sulla gazzetta dello sport però diciamo il pallino e la bella scrittura del piacere di far leggere quello che pensa le sue riflessioni lo ha portato a esordire nel complicato e molto come dire complesso mondo della narrativa quindi facciamo subito leviamoci subito al dente no facciamo un po di pubblicità prego la reggenda inquadrare questo è il volume che la scorsa estate quindi proprio è freschissimo questo questo romanzo che giovanni ha mandato in stampa peraltro con una casa editrice molto prestigiosa la baldini e castoldi e il titolo è l'avversione di tonino per i ceci e i polacchi un titolo che già fa venire voglia di divorarlo tutto in una volta molto come come si è arrivato a diciamo a pensare a questo a questo titolo ma guarda il titolo l'ho messo quasi per gioco perché il momento in cui ho diciamo così completato la prima stessura per poterlo presentare no darlo a qualcuno far vedere quello che ho fatto devo dare un titolo non mi veniva una frase un concetto una parola che fosse esplicativo poi trattando un tema particolarmente spinoso non volevo neppure diciamo così appesantire non volevi neanche appesantire neanche spoilerare il libro no mi piaceva invece diciamo trasmettere un senso di leggerezza ci sono molte persone molti lettori che mi dicono il titolo è molto azzeccato perché incuriosisce magari ci sarà qualcuno che dice ma che è sta cosa così lunga e magari non me lo racconta non me lo dice però la storia è questa e ho preso due elementi insomma caratteristici della storia di cui è protagonista questo bambino tonino l'ho messo lì nel titolo allora senza svelare come dire qual è la trama narrativa nella sua complessità di questo romanzo io devo confessare non ho avuto il tempo di leggerlo tutto ho letto 30 40 pagine e devo fare complimenti a giovanni per il suo stile molto rapido graffiante anche molto evoluto dal punto di vista concettuale è un romanzo veramente che si legge tutto in un fiato almeno io le prime 70 pagine le ho lette veramente in tre quattro ore e come dire il resto con l'ansia di continuare ad andare avanti per vedere come finisce questa storia giovanni però tu diciamo al di là del titolo che è una captazio per l'attenzione del lettore realtà stai affrontando come dire con i guantoni uno dei temi più scabrosi della cronaca di questi ultimi anni sì perché parliamo di chiesa e di pedofilia il protagonista è appunto un bambino tonino che ha sette anni e mezzo quando rimane orfano di mamma e da lì a poco insomma subirà le attenzioni morbose del prete del suo paesino è una storia fittizia inventata ma è ovvio che però pesca a pieni mani da fatti di cronaca purtroppo le pagine dei giornali negli ultimi anni si sono riempite troppo spesso di episodi del del genere da un lato è un romanzo di formazione perché assistiamo alla crescita di tonino che subisce gli abusi da parte di questo prete riuscirà in qualche modo insomma a tirarlo fuori dalla situazione una vicina di casa che gli farà quasi da seconda mamma si chiama tania e capirà quello che sta succedendo a tonine quindi così lo tirerà fuori dalla da questo enorme dramma in cui finisce però poi c'è anche la parte del 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 trauma da superare il trauma che difficilmente si supera anzi forse non lo si supera mai e quindi la seconda parte del libro insomma io affronto proprio le ferite che un abuso del genere e lascia ma come mai hai deciso di affrontare queste cosa hai diciamo hai voluto come dire fare un come dire una sintesi fra la tua pressione per la scrittura e la necessità comunque di offrire una testimonianza guarda io ho cominciato a scrivere questo questa storia una decina di anni fa mi sono imbattuto in un saggio di federico tulli che un collega che lavora per left chiesa e pedofilia in cui appunto si trattava questo tema però fornendo dei dati delle storie vere e anche facendo un excursus di quello che diciamo è il modo in cui la chiesa ha affrontato questa problematica ed è quello che mi ha colpito in modo particolare perché fino a qualche anno fa purtroppo il modus operandi della chiesa mirava semplicemente a nascondere esatto adesso la sensazione insomma senza voler entrare troppo nel dettaglio che con francesco magari ci sia un approccio leggermente diverso però fino ai primi anni 2000 con voetile poi anche i primi anni con ratzinger quelle che erano le indicazioni che arrivavano dal vaticano erano appunto quelle di non fare clamore comunque tentare lavare poi io ricordo che ratzinger fece qualche cosa contro la pedofilia però poi venne diciamo il suo pontificato è stato un pontificato azzoppato diciamo che lui era il braccio destro di Voitila negli anni 80 negli anni 90 quando è esploso il problema il bubone ed è proprio da indicazioni che arrivano dal suo ufficio diciamo così l'ex santo ufficio che arrivavano le indicazioni in tutto il mondo su come comportarsi l'obiettivo principale era quello di non fare clamore non collaborare con le polizie locali e poi nella peggiore delle ipotesi diciamo così si provvedeva a trasferire il prete che si era macchiato di questo abominevole reato da un paese ad un altro questo in tutte le parti del mondo il bubone è esploso negli stati uniti poi nel clan in australia costrarsi il cardinale pello esatto in Italia è anche la gerarchia vaticana sì esatto esatto per cui un problema molto sentito io ci tengo sempre a sottolineare che non si tratta di un libro contro la chiesa in generale chiesa intesa come assemblea contro la religione contro i credenti o contro lo sesso dio si tratta invece di dare delle responsabilità ben precise attraverso una storia fittizia a chi realmente si è girato dall'altra parte creando presupposti perché il pedofilo che un malato potesse continuare a fare danni fino al 2001 Voitila definiva la pedofilia non un crimine ma un peccato questo anche a testimonianza del fatto che le parole sono importanti testimoniano alla sensibilità scarsa sensibilità della chiesa di giovanni paolo secondo sulla problematica che neppure hanno fatto fatto sì e questo infatti diciamo da questo punto di vista se ne parla tuttora insomma c'è una polemica pensiamo margini con la pedofilia ti ricordo anche il caso di orlandi che è tornato nuovamente come dire agli altari della cronaca insomma l'hanno proprio ben nascosto eppure si sa infatti è proprio il modus superandi che ti dicevo all'inizio che mi ha indotto a inventarmi una storia del genere tra l'altro spesso leggendo i giornali mi rendo conto che diciamo non sono stato neppure particolarmente fantasioso nel senso che mi sono inventato una storia che ci sta benissimo a volte leggiamo cose molto molto più più brutte di quello che poi io racconto per cui tutto nasce nasce da lì diciamo così quello che mi piacerebbe scuotere un attimino le coscienze soprattutto di dei credenti perché se quando succede una cosa del genere il primo che deve arrabbiarsi con il prete o con il vescovo che insabbia il caso è il credente stesso perché lui che viene tradito ancora prima insomma il pedofilo in sé per sé è vittima di se stesso nel senso che non voglio ovviamente giustificare nessuno però un malato il problema è quando poi la chiesa ovviamente se si nasconde il problema la pedofilia continua a riproporsi questo tra l'altro ogni tanto mi viene detto sì ma tu hai puntato il dito contro il prete pedofilo come se in altri ambiti non ci fosse no c'è anche in altri ambiti c'è il bidello talvolta c'è l'istruttore di calcio non ne fai una questione contro la chiesa chiaramente il problema è che se la preside dell'istituto x scopre o viene a sapere che il bidello tocca il bambino prima si accerta di questa situazione dopodiché lo denuncia alla polizia la chiesa finora invece ha protetto ma l'alto della chiesa dovrebbe avere la sua missione evangelica di speranza di fede è un tradimento dell'essenza stessa di quello che si ritrova nel vangelo per cui ripeto sebbene con estrema leggerezza perché mi sono sforzato comunque di mettere episodi anche carini che a volta a volta fanno ridere con ironia ho cercato perché la vita è così in realtà la vita è così la vita ci offre gli spaccati amari ma poi ci sono dei momenti anche di allegria tu diciamo nell'introdurre questo personaggio questo tonino è comunque giochi molto anche sulla tua passione calcistica fai anche un ricamo meraviglioso su episodi di cronaca che hanno segnato la storia dei nostri tempi senza spoilerare troppo diciamo il libro si apre con il ma sono 432 pagine hai voglia di spoilerare devo dire che da questo punto di vista incuta il timore però poi quando si comincia come è successo tu stesso mi dici poi vai perché vuoi sapere che succede devo dire che tutti fino agli elettori mi hanno riconosciuto comunque una diciamo fluidità nella nella scrittura che agevola e ti porta fino alla fine detto ciò stavo dicendo senza voler spoilerare nulla il libro si apre con il funerale della mamma del bambino che viene interrotto bruscamente perché arriva la notizia dell'attentato a giovanni paolo secondo viene interrotta la messa per cui il bambino non capisce per quale motivo in un paesino piccolo come non si parla più di sua mamma ma si parla del padre è data tutta questa importanza questa è la versione per i polacchi esatto è la versione per i ceci che sono quasi questo siamo a un passo all'eresia essendo palermitani perché il cecio è il legume come dire che è il brand palermitano dal cecio arriva la panella intanto mi si chiede spesso se è una versione che ho anche io no io li mangio e mi piacciono semplicemente la sera in cui c'è diciamo il funerale la zia gli propina una minestra di ceci e il bambino poi ovviamente collega alla mancanza della mamma ai ceci e poi il papa ovviamente diventa questa questa presenza del papa cioè l'è strutturato dal punto di vista subliminale strutturando la presenza del diciamo dell'episodio del papa per poterti poi ricollegare alla vicenda della pedofilia della chiesa c'è un costruttologico che mi serviva creare un personaggio diciamo che avesse una mancanza affettiva perché purtroppo ho dovuto documentarmi tanto per far sì che il romanzo avesse una credibilità interna importante e ho studiato tra virgolette sia la figura dal punto di vista psicologico della vittima che del cammino il pedofilo è un criminale seriale e sceglie con lucidità le sue vittime non sceglie un bambino che ha una situazione familiare normale serena e più facile insomma da vedere se c'è qualcosa che non va va a scegliere invece un bambino che magari ha delle carenze colpisce là dove sa poi che può colpire che può colpire sono impappinato colpire vabbè ci perdoneranno ecco da questo punto di vista insomma mi tornava utile il fatto che tonino fosse orfano da lì diciamo c'è questa figura immensa di giovane anche perché c'è lo sappiamo di orfanatrofi come ci raccontano sono dei campi di battaglia o almeno sono troppe storie brutte in questo senso per cui lì diciamo mi ha agevolato dal punto di vista narrativo il fatto di avere un bambino orfano così come mi ha agevolato dal punto di vista narrativo il fatto di piazzare il romanzo negli anni 80 che sono i miei anni per cui diciamo dipingere lo scenario mi è venuto più semplice essendo diciamo un'esperienza una prima esperienza era rivissuto gli occhi a tua adolescenza quello che sarebbe potuto capitare se ti fossi trovato una situazione di debolezza diciamo che dal punto di vista autobiografico c'è soltanto i tempi in cui ho ambientato il romanzo e il calcio che è la passione di tonino sì perché ogni tanto spuntano i dribbling di di causio di causino di di bruno conti e l'esplosione di paolo rossi e mondiali la scena madre poi senza voler andare oltre si rivolge proprio durante i mondiali dell'82 che insomma chiunque ha superato i 40 ricorda con tanto affetto per cui e comba anche un pizzico di nostalgia velata tristezza perché ahimè mondiali e quelli e quelli sono i mondiali diciamo che ricordiamo almeno chi ha una certa età ripeto che ricorda con più gioia mondiali veri e quindi diciamo da questo punto di vista ho cercato di alleggerire molto considerato che si tratta comunque di un tema molto particolare e mi sono accorto comunque in questi tre mesi quattro mesi quasi insomma in cui il romanzo è nelle librerie che le persone che l'hanno letto hanno ricepito non solo diciamo la leggerezza ma anche quello che è il mio punto di vista cioè quello di non voler puntare il dito ripeto indiscriminatamente nei confronti della chiesa o di tutti i preti ma invece soffermarmi sul fatto che insabbiare è stato un peccato gravissimo l'errore è quello io faccio sempre un esempio una sorta di metafora mi chiedo ma se gesù dovesse tornare su questa terra e se si dovesse trovare davanti a una scena in cui c'è un bambino che ha appena subito un abuso e dall'altra parte della stanza c'è il prete che ha appena abusato del bambino la domanda è da che parte allungherebbe la sua mano misericordiosa per fare una carezza si rivolgerebbe al bambino o direbbe al prete vai via che ora la sistemiamo la cosa non ti preoccupare il bambino neppure lo degnerebbe di una suguardo la domanda è come si è comportata come si è comportata come si comporterebbe gesù probabilmente con questa scena che mi sono appena inventare vero giovanni tu mi fai una domanda alla quale è impossibile rispondere come si fa dobbiamo aspettare quella è venuta la seconda vera ma è facile immaginare insomma che se è la chiesa per migliaia e migliaia di casi e ha spostato il prete da un paese all'altro creando le condizioni perché quel prete ripeto che un malato non sotto non tutti i preti per fortuna sono così creando le condizioni perché quella che siamo infatti per fare chiarezza la pedofilia è un dramma epocale della nostra generazione sociale però diciamo il numero di persone di pedofili non è un numero così si potrebbe intervenire anche sul piano giudiziario in maniera più più pervasiva se ci fosse la collaborazione da parte dovrebbe esserci una collaborazione molto più stretta tra lo stato e il vaticano il vaticano da un lato anche questa è una vecchia storia dovrebbe cambiare totalmente atteggiamento e quindi chiedere di collaborare non si fa la verità sul caso Sindona esatto infatti da questo punto di vista insomma la chiesa purtroppo ha tempi troppo lenti dall'altro lato lo stato e beh ma al tondo sono i tempi di dio come dire non dall'altra parte però lo stato italiano dovrebbe fare come hanno fatto altri paesi in europa se tu permetti al vescovo che può essere diciamo in contesti del genere in qualche modo investito come un pubblico ufficiale fai sì che il vescovo possa denunciare il prete quindi da un lato deve esserci la possibilità della legge che ti permette di fare una cosa del genere dall'altro lato ci deve essere la collaborazione del vaticano poi molte volte questi reati si commettono in territorio extramenia quindi anche difficile un intervento delle forze dell'ordine della polizia giudiziaria è molto molto complicato per carità devo dire che anche diciamo le famiglie hanno un approccio diverso io c'è una scena e descrivo diciamo così l'atteggiamento che potrebbe avere la zia che diciamo doveva vivere il bambino una volta rimasto orfano se avesse scoperto quello che stava succedendo e probabilmente ti avrebbe tosto e zitto ma che vai dicendo ma c'è ancora questo velo di omertà piuttosto che sì ma per non far cadere discredito sulle famiglie si tende a nascondere il problema perché la vergogna e il senso di colpa superano qualsiasi qualsiasi altro sentimento la vergogna è troppo forte se subisci un abuso del genere sia da genitore ma soprattutto tu che l'hai subito fai molta fatica a raccontarlo io faccio sempre l'esempio di francesco zanardi che è il presidente dell'associazione rete l'abuso lui ha subito degli abusi da ragazzino e ha impiegato vent'anni per elaborare questo e per denunciare quando si è deciso ed è andato dalla polizia a denunciare quello che gli era successo la polizia gli ha detto ma dopo dieci anni va in prescrizione ti possiamo aiutare più ecco quando ti dico lo stato deve aiutare non può cioè tu per elaborare una cosa del genere ci vuoi impiegare pure 30 anni e non può passarla franca francesco zanardi che è davvero una persona ammirabile da questo punto di vista perché molto cocciuto ed è andato avanti e ha portato avanti la sua battaglia di fronte a tutto e a tutti è andato a cercare altre vittime dello stesso prete che avevano subito l'abuso entro i dieci anni li ha convinti a denunciare il prete alla fine l'ha fatto arrestare ma cioè quante persone avrebbero avuto ma devo dire che noi in sicilia comunque siamo abbastanza all'avanguardia su questo tema perché se non sbaglio c'è il meter di don di noto che funzionano adesso non lo so telefono azzurro che penso che sia mi auguro che funzioni però dico la chiesa sicuramente dovrebbe fare molto di più sotto tanti punti di vista cioè la chiesa non è tutto questo diciamo va da sé per carità infatti l'abbiamo specificato ci mancherebbe altro però purtroppo non possiamo dire che è una cosa che riguarda diciamo il passato perché non è così negli ultimi roba di questi mesi a piazzarmerina c'è stato un caso di un prete che aveva però ti faccio una domanda per i domiciliari il vescovo l'ha coperto cioè stiamo parlando del 2020 questa storia è ambientata negli anni 80 ovviamente a te serve per dare come dire un tessuto narrativo dare un contenitore per spiegare anche qual è la sofferenza di chi subisce un abuso e quanto è difficile la discoveri di questi fatti ma questi fatti se accadessero oggi se lo scenario non fosse quello dei mondiali del 82 quali mondiali del 2022 cioè con tutti gli strumenti tecnologici il bambino abusato è in una situazione di maggiore pericolosità di diciamo è più grave è più difficile denunciare perché io ho la sensazione che i social non siano la panacea di tutti i mani ma che probabilmente possono far diventare normale anche un cattivo comportamento un cattivo certo su questo non c'è dubbio io dico che il internet i social hanno aiutato anche i più giovani nel senso che oggi magari determinate storie le conosci e le viene a sapere anche attraverso i social attraverso internet e poi chiaro che dipende dall'uso che se ne fa di questi strumenti però io quando avevo dieci anni però molti adescamenti avvengono proprio in quelle reti per i minori certo cioè genitori non lasciate il tablet quello si sa via se lo controllo assolutamente la funzione del genitore fondamentale però quello che intendo dire io è che negli anni e 80 se mia madre non mi spiegava come funzionano determinate cose io come le dovevo sapere mezzo alla strada adesso magari hai uno strumento in più che può essere anche internet se i genitori ci stanno sopra per conoscere il pericolo cioè su internet si può sia cadere nella trappola ma anche venire a conoscenza del fatto che tizio padre il certo è stato trasferito da un paese all'altro perché c'è una un'indagine a suo caso da questo punto di vista diciamo non è vantaggi svantaggi si equilibri dipende dall'uso che se ne fa dipende dall'uso che se ne fa e soprattutto dipende dal con la caro giovanni il tempo 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 sfuggiti dicevano i latini allora io diciamo faccio un appello come dire a tutti coloro che ci seguono e non lo faccio soltanto perché giovanni è un collega un amico è un ottimo scrittore ma secondo me questo è un romanzo che vale veramente la pena leggere prima di tutto perché per i 50 anni come me c'è un ritorno al passato ci sono delle emozioni delle nuanze di quelle che sono state le nostre passioni però giovanni ha il grande pregio da narratore di raccontarci una storia che non fa sconti a nessuno di raccontarci una storia che comunque terribilmente attuale ed è per questo che io come dire e non so se sia corretto farlo davanti con la telecamera io invito tutti a comprare il libro di giovanni leggerlo poi magari visto che noi comunque siamo anche un programma social quando l'avete letto fatelo fate i vostri commenti dateci la vostra opinione perché credo che giovanni sia molto aperto anche accettare critica seguire riflessioni anche perché ha implicato dieci anni per compiere questo elaborato per realizzare per trasformare il manoscritto in un libro è un'opera molto complica cioè veramente è complicato poi mettere nero su bianco tutto quello che si pensa trovare una casa editrice nella fase di editing insomma tutta la cura che serve per trasformare ripeto un plico di fogli in un però veramente ne vale la pena anche un buon regalo di natale anche in ritardo da fare alle persone che volete bene perché a natale si devono fare anche regali intelligenti e questo libro è sicuramente un regalo intelligente giovanni io ti ringrazio il tempo che ci hai dedicato in bocca al lupo per i tuoi successi professionali sono io che ringrazio la promessa il prossimo libro insomma lo presenterai pure da noi non posso tornare se vinco qualche premio incrociamo il cross finger allora assolutamente sì noi facciamo il tifo per giovanni sto scherzando a volte le case editrici partecipano anche a dei dei premi per opere prime però tu è l'opera prima esatto io ho dato qualche input magari capita magari capito dai grazie giovanni grazie ci ha seguito questa puntata di tolco sicilia arrivederci alla prossima puntata ciao